Bene, bentornati, buonasera a tutti, siamo qui per la seconda parte della prima giornata di Digit e parliamo di un argomento che sta a cuore, immagino soprattutto a chi fa questo lavoro, ma insomma cercheremo di entrare anche nelle logiche che hanno generato questo progetto e che poi hanno portato alla creazione di una serie di progetti. Noi come LSD, che è il gruppo di lavoro, l'acronimo sta per libertà di stampa di rito all'informazione, che io dirigo abbiamo scritto anche un paio di pezzi proprio sui Google DNI perché ci sembrava interessante, l'ho accennato anche stamattina, capire come è andata questa cosa, intanto partiamo dal concetto che Google Europa ha messo a disposizione 150 milioni di euro dal 2015 al 2018 per il giornalismo digitale innovativo, l'idea era proprio quella di premiare, di sovvenzionare in qualche modo. Google non da solo, insieme a Google ci sono un certo numero di editori europei, da noi l'unico editore che ha aderito all'inizio di questa cosa era la stampa, che però nel frattempo ha cambiato padrone e adesso è del gruppo Jedi, no? Quando è iniziata questa cosa era di un altro proprietario, ma nel frattempo come dire, la stampa rimane nel gruppo di editori europei che hanno aderito a questo progetto. Poi c'è un comitato di gestione, un comitato di saggi, o vorrei definire, di cui fa parte un'unica italiana che è Arianna Ciccone, che è la fondatrice nonché direttore del Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia, che come sapete è ampiamente sponsorizzato da Google, ma questa è un'illazione che faccio io, ma non serve a nessun altro. Questa idea di Google di sovvenzionare il giornalismo innovativo è un po' come dire, trasversale, no? Come si dice? Cioè, da una parte Google è molto sottotiro da parte della stampa, degli editori, insomma in questi anni se ne è parlato tantissimo dell'idea che questo motore di ricerca poi alla fin fine si sia trasformato in qualche modo lui stesso in un editore, insomma ci sono evidentemente molte cose che si potranno dire su questa vicenda. Dall'altra però, indubbiamente, questi 150 milioni di euro sono stati davvero impiegati perché fino all'ultimo round, come viene definito le chiamate, le call in action di Google su queste cose, fino all'ultimo round erano stati spesi 115 milioni di euro, però proprio a fine marzo saranno proclamati gli ulteriori vincitori, io li chiamo vincitori, ma è evidente che non è il termine più giusto, insomma, gli ulteriori progetti che riceveranno questo finanziamento e quindi si arriverà, presumo, a compiere il giro e a spendere tutti questi soldi che erano stati messi a disposizione, ripeto, da Google Europa, perché altri progetti di finanziamento sulla stampa nel resto del mondo sono stati sovvenzionati da Google, ma chiaramente non da Google Europa. Tra l'altro questa iniziativa, cioè le DNI, le Digital News Initiative, finisce con il 2018, vengono appunto resi noti gli ultimi beneficiari del finanziamento adesso alla fine di marzo e contestualmente sarà presentata la nuova iniziativa di Google che si chiama GNI, cioè levano la D e ci mettono una G, l'acronimo non so se sia ugualmente News Initiative, presumo di sì, presumo che voglia dire Google News Initiative e quindi sarà una nuova forma di finanziamenti che erogherà Google e ne parleremo anche durante questa chiacchierata perché anche se loro ancora ufficialmente non le hanno presentate queste iniziative, noi abbiamo carpito un po' di informazioni qua e la facciamo i giornalisti, ogni tanto ci riesce anche. Avevamo invitato al tavolo Google perché ci pareva carino che visto che parlavamo di cose di Google ci fossero anche loro a raccontarci le loro cose e loro molto simpaticamente all'ultimo secondo, dopo aver assicurato e controassicurato che ci sarebbero stati, all'ultimo secondo ci hanno scritto una mail due giorni fa dicendo eh no all'ultimo non possiamo, ci scusiamo tanto. Io prendo atto insomma e ve lo dico così come l'ho saputo io insomma, il convitato di Pietra c'è anche scritto sul cavalletto, si doveva chiamare e si chiamerà ancora presumo Riccardo Terzi ed è uno dei responsabili di Google Europa che alla fine non è venuto. Dunque che cos'è questo progetto e come funziona? Un aspetto di questi progetti che è un aspetto come dire significativo è che tutti i progetti devono essere redatti in lingua inglese che come sappiamo bene insomma per noi italiani ancora è abbastanza uno scoglio notevole per questa cosa. Questa è appunto la questione dei 150 milioni di euro, 11 partner europei come... l'idea di Google era quella di fare appunto questa cosa. In Italia questi progetti su 150 milioni di euro ne sono arrivati soltanto 8 di milioni. Ora può darsi che con l'ultimo round arrivino degli altri soldi. Insomma 8 milioni su 150 è un rapporto abbastanza pesante in senso negativo evidentemente. I progetti di Google devono essere, dovevano essere, progetti che inserissero delle novità significative nel giornalismo, ma novità soltanto tecnologiche evidentemente, ma proprio nella produzione dei contenuti giornalistici. I progetti erano organizzati in tre tipi diversi. Un progetto prototipo, quindi un numero zero, una sorta di numero zero, quindi la realizzazione, la dimostrazione che si poteva realizzare un certo tipo di progetto editoriale e veniva sponsorizzato da Google fino a un massimo di 50 mila euro e completamente, cioè tutti i soldi necessari appunto a raggiungere questa cifra venivano erogati direttamente da Google. Poi ci sono progetti di medio livello che venivano pagati fino a un massimo di 300 mila euro. Questi progetti di medio livello venivano poi subvenzionati per un massimo di un 70%, quindi un progetto che arrivava a prendere 300 mila euro in realtà ne doveva costare un po' di più, doveva costare un 30% in più di 300 mila, doveva costare quasi 400 mila euro. E poi c'erano i progetti cosiddetti large che arrivavano fino a un massimo di un milione di euro. E sono progetti che per esempio in Italia sono andati chiaramente solo a grossi editori, evidentemente per un problema proprio di preparazione del tipo di progetto o probabilmente anche per la difficoltà di, visto che anche in questo caso veniva erogato fino al 70% del costo di fronte a un impegno economico così grosso, evidentemente ci vuole poi un grosso editor o comunque una grossa impresa che sia in grado di sostenere la differenza. Come vi dicevo sono stati erogati fino agli ultimi dati che conosceremo soltanto alla fine di marzo 115 di questi 150 milioni e sono andati in 30 paesi diversi dell'Unione Europea. I progetti italiani finanziati sono stati 39, mancano appunto quelli dell'ultimo round. Questi 39 progetti per il momento hanno ricevuto 8 milioni di euro. Qui a tavolo con noi ci sono due persone che hanno preparato un progetto di questo tipo e i cui progetti sono stati appunto finanziati. Uno è quel signore in fondo che si chiama Vincenzo Smaldore che è un comunicatore, giornalista e che lavora ad Open Police, che è una piattaforma che poi ci presenterà, insomma un soggetto che comunque di per sé è molto interessante da scoprire e conoscere. L'altro signore accanto si chiama Mario Tedeschi di Lalli, è un giornalista, un grande esperto di mondi digitali e di giornalismo digitale, ha ammesso che questa cosa possa avere un senso dirla al giorno d'oggi. Per lui non ha mai avuto senso dirla neanche prima, ma quindi ci mancherebbe. Lui ha lavorato a lungo al gruppo Gedi, che è appunto l'ex gruppo L'Espresso e ha partecipato personalmente insieme a un collega che si chiama Nicolas Kaiserpril ad un progetto che poi ci racconterà brevemente e poi ci racconterà meglio domani perché poi avrà un suo speech tutto dedicato a farci capire come poter applicare questo progetto che loro hanno presentato. La mia esperienza è un'esperienza molto particolare, molto atipica, in parte per le ragioni che ha detto adesso Marco, cioè io sono un giornalista in pensione, fin a che ho lavorato attivamente due anni e mezzo fa, sono sempre stato in grandi gruppi, grandi, grandi, medi, gruppi editoriali e per, diciamo, più oltre la metà della mia vita professionale mi sono occupato del giornalismo digitale, perché casomai ancora qualcuno ne dubitasse e gli strumenti digitali ormai potrebbero già votare per il Senato, per quanto non sono nuovi e appunto io sono un giornalista in pensione che ha passato più della metà della sua vita professionale a occuparsi di queste cose. Il progetto di cui stiamo parlando è un progetto che è nato in maniera assolutamente non programmata da una cosa che avevo scritto e che un assai più giovane collega francese che vive e lavora a Berlino ha colto e diceva ma perché non ne facciamo un progetto per Google DNI. Io ero quasi alla fine del mio percorso professionale, mancavano due mesi e mezzo alla pensione, noi non credevamo minimamente alla possibilità di vincere, anche perché era un progetto un po' particolare, poi appunto come diceva Marco, poi domani pomeriggio alle tre e mezza, qui credo, ne parliamo in maniera più estesa e diffusa, era più una provocazione, un'ipotesi di studio che è detta in quattro parole questa. Cioè siamo in una fase, in Italia in particolare ma un po' in tutto il mondo, dove i tentativi di controllo dei contenuti, anche giornalistici, anche da parte delle autorità a questo deputate, magistratura per dire, assumono delle forme molto molto preoccupanti per la libertà di espressione e per la libertà di stampa, che sono due cose distinte, la libertà di stampa è un di cui da libertà di espressione di ogni cittadino. Quindi io mi sono chiesto, e in particolare ci fu un episodio molto clamoroso, c'è stato un piccolo sito di informazione abruzzese, si chiama primadanoi.it, si chiamava in realtà perché adesso è chiuso, forse riaprirà, non si sa, ma è chiuso anche perché è stato per anni massacrato da sentenze che imponevano la cancellazione di notizie di cronaca corretta, nessuno dubitava della correttezza, spesso di informazioni provenienti da fonti ufficiali, polizia, solo che dopo un po' davano fastidio perché ciascuno di noi apparentemente ha diritto a far dimenticare le fesserie che ha fatto anche due o tre anni prima e quindi arrivato fino al livello di Cassazione la giurisprudenza italiana ha stabilito che le notizie hanno o possono avere una scadenza. Allora io ve la lascio qui perché poi ne possiamo parlare domani in maniera più attenta. Naturalmente questo per me è una cosa priva di senso e quindi unendo questo ad altre questioni mi sono chiesto se non fosse possibile utilizzare, visto che siamo nel mondo digitale dove i confini fisici non contano più tanto o non contavano più tanto, se fosse possibile utilizzare giurisdizioni più liberali per salvare materiali a rischio di essere cancellati. E per cui feci un post sul mio blog dicendo perché non andiamo offshore, così come le grandi società creano dei paradisi offshore per minimizzare il loro contributo fiscale, guardate come parlo bene, noi potremmo crearci dei paradisi offshore per massimizzare la libertà di espressione. Su questo concetto Nicolà ha letto il mio post e dice ma perché non facciamo un progetto per Google? Stiamo parlando della fine del giugno del 16, se adesso sono un po' come tutti i vecchi, mi si è ammarmellata tutto il tempo e scadeva il bando tipo meno di una settimana dopo, cinque giorni dopo. Dico ma sì dai proviamoci, ma tanto poi serve per fare cacciara, come diciamo noi dalle parti del Tevere, sulla questione, sulla questione di merito. E quindi noi nel giro di cinque giorni abbiamo redatto e spedito la nostra domanda di partecipazione. E poi abbiamo cominciato a tambureggiare, abbiamo cominciato a scrivere perché questa era un po' l'idea. Tranne che a ottobre ci è arrivata una mail dicendo allora avete passato la prima selezione diciamo così per titoli e ci sarà un colloquio. E quindi ci hanno invitato a metà ottobre, anzi in realtà era l'estate, io stavo in vacanza, mi ha scritto Nicolà incredibile, diciamo guarda ci chiedono un colloquio per fine settembre. Io non ci sono, ho spostato questo colloquio a metà ottobre, ho fatto un colloquio via Skype con un amabile collega, credo, una scozzese, quindi Nicolà Berlino, io a Roma, lei ad Edimburgo e gli abbiamo raccontato quello che pensavamo di poter fare, che non era molto perché appunto non era proprio un progetto, era più un'idea, cioè un software che diciamo leggesse, meglio ancora prima del software, di definire un metadato, se qualcuno ha problemi con il linguaggio me lo dice cerco di spiegare, sappiamo tutti cos'è un metadato? No, benissimo. Allora, cos'è un dato lo sappiamo, un articolo dentro un archivio digitale è un dato, una foto dentro un archivio digitale è un dato, un post che io faccio su Facebook è un dato, una foto che io metto su Facebook è un dato, se in quella foto ci sta pure Marco Renzi, io ci scrivo sopra Marco Renzi, taggo Marco Renzi, questa è una cosa che più o meno facciamo tutti quanti, io in realtà al dato che è la foto sto aggiungendo un metadato, cioè in questa foto c'è anche Marco Renzi, quindi il metadato sono delle informazioni che aiutano a definire il dato, è chiaro? Quindi anche la data di pubblicazione, l'autore dell'articolo sono a loro volta metadati, naturalmente ci sono metadati molto più complessi e intorno ai metadati è l'architettura dei metadati che già si dà o si può dare ad un dato, in particolare a un dato giornalistico, perché di questo stiamo parlando, si gioca molta parte dell'informazione giornalistica del futuro, no del presente, non quello del futuro, ma questo è un altro discorso che magari ripigliamo in un'altra occasione. Allora l'idea era quella di dire, benissimo, se io sono un editore, una redazione che scrive una cosa, che pensa, che possa, giusta, corretta, precisa, eccetera, eccetera, che pensa che possa essere a rischio di cancellazione di autorità, inserisco nel codice di quella pagina una specie di bandierina di allarme, di soccorso, lancia un SOS, una nave che passa o addirittura un'organizzazione apposta, fatta apposta per salvare i naufraghi, prende quel contenuto e lo salva, su mia autorizzazione, perché quella bandierina dice su un server suo da un'altra parte. E quindi il nostro progetto era definire questi segnali con alcune condizioni, naturalmente, salva e non pubblicare, salva e pubblica subito, salva e pubblica tra un po', salva e pubblica quando non vedi più questa pagina, quando esce fuori il segnale 404, questa pagina non è più a questo indirizzo, eccetera, eccetera. E poi un piccolo software che, diciamo, può essere lanciato da chiunque per andare a vedere in giro per il mondo e per il web quali pagine hanno questi segnali, queste bandierine di soccorso e salvare questi contenuti. Questo era sostanzialmente il progetto, alla fine lo hanno approvato, quindi questa organizzazione di due, uno a Berlino e uno a Roma, si è trovato per le mani un'idea che era forse brillante ma non era ancora veramente un progetto in senso proprio, ha dovuto costruire delle cose che ha costruito senza una grande, arriviamo subito al dunque, senza una grande risultato in termini, diciamo, politici, di effetto, di efficacia sul mondo da cui tutti quanti noi veniamo, ma che comunque è stata una cosa interessante. Ponendo dei problemi che, come mi capite, non sono il succo del panel di adesso, però insomma i problemi che pone il marchigegno che Mario e Nicola hanno messo insieme, evidentemente sono problemi forti, uno è quello di dove vanno a finire questi dati, c'è stata una lettera di Zuckerberg di questi giorni, non so se l'avete seguita, non so se avete idea di che cosa significhi, lui ha messo le mani ancora di più nella questione dell'archiviazione e ha definito ancora di più il ruolo di Facebook, che è un ruolo sempre più censorio, sempre più, come dire, dentro nel senso dei dati in loro possesso, che poi siamo noi a fornirli. Quindi la questione che pone Mario è sempre più stringente, evidentemente, per dove vanno a finire i dati, ed è ugualmente stringente per la memoria di questi dati, cioè dove vanno a finire è la locazione, ma la memoria di quello che è prodotto e quindi il diritto all'oblio, poi ne parlerà bene domani, naturalmente quando ci spiegherà davvero, ora ce l'ha appena accennato, di che cosa si tratta di questo progetto, perché poi c'è tutto quell'aspetto lì, no? Cioè, come la gestiamo? Oramai la memoria analogica c'è, però è una memoria che via via andiamo perdendo, tutto quello che produciamo è soprattutto sul supporto digitale, questa cosa qui, che quando abbiamo ideato il mondo digitale doveva essere la salvezza assoluta, perché, ah, accidenti, il supporto digitale è infinito, non ci costa niente o quasi, non ci occupa spazio, ah, abbiamo il cloud, poi abbiamo scoperto che invece il mondo digitale perde la memoria molto più velocemente di quanto non facesse il mondo analogico e quindi il problema della memoria diventa stringente, diventa fondamentale, ci abbiamo già ragionato anni fa in un'altra edizione di Digit, ma evidentemente diventa ancora più importante, è sempre più importante e quindi ci riragioneremo. Ok, prego, un attimo, arriviamoci, penso io. Lucia Evangelisti, Wall Street International Magazine. Volevo chiederle due cose, la prima è se il sito nel quale avvengono questi salvataggi è uno solo e la seconda è, da un punto di vista della magistratura, dato che esiste anche ovviamente giornali in internet, lì si mantengono le informazioni, quindi volevo sapere se una persona che viene urtata da quello che è scritto anche dopo che sta molti mesi e anni in internet può chiederne la cancellazione, perché in quel caso lì, se no, non sarebbero cancellabili gli articoli che sono fatti in internet. Tu mi devi dire se qua entriamo un po' nel merito del progetto, se vuoi che ne parliamo adesso, oppure di questo parliamo domani pomeriggio. Sarebbe una domanda per domani, però voglio dire... Allora, la prima questione è che sì, esistono i siti dei giornali e per l'appunto i siti dei giornali sono soggetti alla legge e specialmente sono soggetti alla legge così come interpretata dai tribunali e dalle corti, che naturalmente fanno giurisprudenza, perché non c'è nessuna legge in Italia dove ci sia scritto che i giornali online devono cancellare le notizie, ma ci sono state delle sentenze che hanno stabilito che non solo devono cancellarne, ma se ritardano sono soggetti a multe al sequestro dei beni del direttore, insomma cose interessanti di questo genere. Allora, quindi questo sì, c'è tutto quello che sollevi e tutta la questione che riguarda appunto la definizione di questo cosiddetto diritto all'oblio, perché in realtà si usa questa espressione che è nata in un momento predigitale che voleva dire un'altra cosa, e che comunque nella sua forma europea, quella stabilita dalla sentenza del 2014, la Corte Europea in realtà non prevede la cancellazione dei contenuti, esattamente il contrario, era una causa in cui un contenuto spagnolo, si richiedeva la cancellazione di un contenuto spagnolo e invece fu poi ordinata la cancellazione della indicizzazione su Google rispetto al nome dell'interessato. Quindi la cosa è piuttosto complicata. Diciamo che il mio progetto nasce, oltre che da questi casi estremi, dall'idea che c'è, e mi sembra che poi in questi ultimi tre anni, se per questo la tendenza sul piano politico internazionale sia accentuata, c'è una tendenza da parte delle autorità, che siano autorità politiche, autorità giudiziarie, autorità di polizia o altre, a affermare un controllo sui contenuti, sia pure a fin di bene, apro le virgolette e chiudo le virgolette, che prima non si dava, con degli effetti molto gravi sulla libertà di espressione e la libertà di stampa, e specialmente sulla libertà di espressione e la libertà di stampa, così come deve essere ridefinita nel mondo digitale, perché una delle cose che succede nel mondo digitale è che i confini crollano, e non crollano solo i confini fisici, crollano anche i confini temporali. E allora, prima, tutte le volte che io lavoravo nei quotidiani, scrivevo per quella giornata, o quando prima lavoravo nelle agenzie di stampa, scrivo addirittura per quell'istante, oggi, ogni volta che scriviamo su una piattaforma digitale, scriviamo per adesso e scriviamo per il futuro, un futuro indeterminato. E quindi evidentemente il nostro giornalismo crea significati e relazioni di significato anche nel futuro, questo comporta dei problemi, perché è vero che comporta dei problemi in alcuni casi, ma è anche un'opportunità. Stampare, cioè fare il giornalismo nel mondo digitale, non vuol dire soltanto fare il giornalismo come lo facevamo prima nel mondo digitale, dentro gli strumenti digitali, vuol dire sfruttare fino in fondo l'opportunità che il digitale ci dà. Per esempio quello di informare per il futuro. E quindi se dobbiamo essere liberi di informare per il futuro, dobbiamo anche fare un ragionamento intorno a questi discorsi. Sono evidentemente problemi molto seri, molto importanti, che scrivere per il web ci sta facendo perdere l'abitudine a mettere la data, non so se ci avete badato, insomma. I gestori del web incentivano a farci perdere questa nostra abitudine, quindi questo aspetto è evidentemente molto importante e va sottolineato. Ne parliamo domani pomeriggio, sempre con Mario, per questa specifica sua attività. Allora, a Vincenzo volevo appunto chiedere un pochino di open police, che vabbè conosciamo tutti, ma che magari insomma avendo uno di loro qui con noi magari ce lo racconta un pochino meglio e poi anche tu raccontaci un po' come siete arrivati a questo progetto. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Io in verità volevo iniziare con una piccola interlocuzione con Mario, lo so che si parla domani però, visto che stiamo qua. Ma io penso che il bisogno da cui Mario è partito sia un bisogno reale e probabilmente molto sottovalutato. Anzi, a questo proposito io posso già portare la nostra testimonianza come open police per far capire come è un tema che riguarda il contenuto, l'informazione, ma riguarda anche il dato che è la fonte da cui scaturisce il contenuto e l'informazione. Vi faccio due esempi che sono problemi che noi, devo dire, affrontiamo da qualche anno con una frequenza settimanale. Allora, uno dei nostri progetti, fra quelli più conosciuti, si chiama Open Parlamento, cioè noi attraverso l'analisi dei dati ufficiali di Camera e Senato ricostruiamo che cosa succede in Parlamento e lo facciamo tutti i giorni. Fra le diverse funzionalità di Open Parlamento vi è quella di poter leggere tutti i testi degli atti parlamentari. Voi capite bene, i testi degli atti parlamentari non è che ce li inventiamo noi, li prendiamo dalla Camera e il Senato. Ora, lì già succede un problema. Camera e Senato, quando pubblicano questi testi, i testi degli atti parlamentari, lo fanno con un'architettura dell'informazione che dire astrusa è poco, cioè l'utente che vuole effettivamente leggere un testo si deve proprio impegnare perché va sul sito della Camera e comincia a cliccare, uno, due, tre, magari per leggere il testo di un'interrogazione parlamentare deve fare cinque o sei clic. Capite bene che ogni volta che l'utente deve fare un'interazione è una barriera, cioè molti li perdi. Noi abbiamo tutta una serie di meccanismi che mettono invece al centro della navigazione di Open Parlamento i contenuti che vogliamo mettere in evidenza e questo poi ovviamente è anche premiato da un'indicizzazione su Google. Questo che cosa comporta? Che magari un parlamentare che fa un'interrogazione a un ministro in questa sua interrogazione denuncia quello che può essere un comportamento illecito che più delle volte viene fatto da un imprenditore o da qualcuno che ha degli interessi sul territorio, è un testo che è disponibile sul sito della Camera, sul sito del Senato, ma è come che non fosse in effetti pienamente raggiungibile. Siccome noi lo mettiamo al centro della nostra navigazione ed è indicizzato su Google, diventa un elemento invece raggiungibile. E quindi che cosa succede? Che noi veramente settimanalmente abbiamo diffide di avvocati che dicono spettabile fondazione Openpolis, sul vostro sito abbiamo trovato questo testo in cui c'è scritto che il mio assistito è coinvolto in attività malavitose. Molto spesso parliamo di condanne anche all'ultimo grado di giudizio per mafia, cioè cose su cui non c'è nessun dubbio, chiediamo la rimozione immediata. Ora, quello è un testo che è un testo di un atto parlamentare. Il parlamentare quando esercita il suo mandato non è passibile per reato di opinione e anche altri tipi di tutela e quindi veramente, se non l'avete mai fatto, vi invito a farlo, se leggete i testi di alcuni atti parlamentari, soprattutto le interrogazioni, sono veramente molto espliciti. Cioè, un'interrogazione tipo è il parlamentare che chiede al Ministro, ma com'è possibile che la società di Pinco Pallo ha vinto l'appalto? Pinco Pallo che è condannato per mafia? Ecco, ora Pinco Pallo a quel punto si trova il suo nome attraverso la nostra piattaforma in un contenuto che è indicizzato su Google, quindi se uno cerca il nome Pinco Pallo, fra i primi risultati di ricerca trova la nostra pagina che espone quello che nient'altro che è un atto parlamentare ed ecco che diventa un problema. Diventa un problema e quindi scattano le mosse legali. Quindi questa è una situazione tipo un'altra situazione, ancora più se volete paradossale, riguarda un altro nostro progetto che poi in parte vi racconterò dopo, che è la banca dati dei politici italiani. Allora ci sono molto spesso dei politici che ci scrivono e ci dicono dovete togliere il mio nome dalla vostra banca dati perché io non voglio far sapere che in questo momento sono un politico, perché questa è un'informazione che mi espone magari nei confronti delle banche, mi espone nei confronti dell'opinione pubblica. E anche lì avvocati, avvocati. Devo dire noi ora siamo effettivamente eseguiti anche noi da un ufficio legale e di volta in volta cerchiamo di capire quali cose poter assecondare, quali invece rispondere anche a tono. Magari può capitare che una persona è stata consigliere comunale in una lista civica 15 anni fa in un comune piccolo, allora magari richieste di questo tipo le proviamo anche ad assecondarle se ci rendiamo conto che effettivamente non c'è un problema. Però rispetto anche alla questione che diceva Mario prima, cioè del ieri, oggi e domani, il lavoro che noi facciamo come Open Police di stratificazione e di analisi del dato si basa esattamente sullo ieri e il domani. Cioè l'informazione per cui oggi un politico, faccio un esempio tanto per dire, è in Parlamento perché eletto con la Lega, è un'informazione che per noi acquista valore se posso dire sì ma attenzione che lui cinque anni fa era con il PD. Metto in relazione queste due informazioni, trovo un elemento che posso chiamare cambio di opinione, posso chiamare trasformismo politico. Se mi si impedisce di stratificare il dato e di fare questi tipi di analisi, ecco che c'è un vulnus enorme. Quindi insomma questa è una testimonianza, poi magari la cosa mi interessa approfondirò con Mario separatamente, però è veramente un tema molto molto importante. Detto questo invece passiamo alla presentazione di Open Police. Open Police è una fondazione no profit, rientra all'interno della società civile e in effetti uno degli elementi molto interessanti dei bandi Google DNI era proprio quello di essere rivolti non solo agli editori classici ma anche a uno spettro più ampio. Noi abbiamo partecipato anche perché questo era un bando fondamentalmente a fondo perduto, cioè Google dà dei soldi se vinci il bando, quindi se come raccontava Mario anche noi abbiamo fatto le selezioni, abbiamo avuto un'interlocuzione, nel nostro caso era una selezionatrice olandese, molto disponibile e molto simpatica, fondamentalmente danno dei soldi per portare avanti il tuo progetto senza avere nulla in cambio. Cioè il progetto non diventa di Google, gli output del progetto non sono condivisi ovviamente dentro la strategia di Google neanche per quanto concerne i contenuti, perché sapete che invece molto spesso le piattaforme, soprattutto quelle social, fanno operazioni con gli editori di quel tipo, letti do dei soldi per fare dei contenuti sulla mia piattaforma. No, in questo caso Google finanziava progetti avendone in cambio chiaramente un ritorno reputazionale, ovvero il poter dire questo progetto è stato finanziato coi soldi che io ho dato. E quindi questo approccio secondo me era un approccio di per sé innovativo rispetto allo scenario che c'è, quindi noi abbiamo deciso di provarci, ci abbiamo provato proponendo un'applicazione di uno dei nostri progetti strategici su cui stiamo al lavoro, ora ve ne parlo un po' nella presentazione. Il progetto strategico si chiama Mappe del Potere. Allora, innanzitutto Open Police, come vi dicevo prima, Open Police è una fondazione non profit, noi lavoriamo sul tema di intendere e diffondere la cultura del dato in Italia, quindi ragionare in termini di dati come beni comuni. Questo significa che facciamo tutta una serie di operazioni volte a lavorare su informazioni pubbliche, dati pubblici, renderli più comprensibili per i cittadini. Laddove il dato pubblico non è facilmente accessibile, facciamo noi operazioni anche di civil hacking per liberare il dato e restituirlo alla comunità. Lo restituiamo alla comunità fondamentalmente attraverso una serie di strategie e di strumenti, attraverso delle applicazioni web, attraverso dei prodotti editoriali, attraverso anche delle campagne, perché noi ogni qualvolta analizziamo un certo tipo di fenomeno attraverso i dati, riscontriamo i limiti della trasparenza che è presente in quell'ambito, quindi cerchiamo sempre di porre l'asticella più avanti. E poi ovviamente vi è il discorso generale della cultura del dato. Cultura del dato significa innanzitutto al giorno d'oggi rendere consapevoli le persone che in ogni istante, ogni giorno, producono tutti noi, tutti noi produciamo dati e quasi sempre non ne siamo consapevoli, ne perdiamo il controllo. Abbiamo davanti la possibilità di utilizzare molti strumenti, molti gratuiti, non ci rendiamo conto che utilizzandoli ci diamo i loro dati. E questa cosa invece ha un grande valore sia nell'organizzazione della società, dei sistemi produttivi, dei sistemi informativi, ma ha un grande valore ovviamente anche sulle singole persone. Open Police, vi dicevo anche prima, è una struttura che ormai ha dieci anni di vita. Noi in tutta una prima parte delle nostre esperienze ci siamo concentrati sull'idea di creare applicativi web, quindi piattaforme, che avessero questo metodo di lavoro, cioè partiamo da il dato istituzionale, fonte certa, quel dato lo curiamo, lo puliamo, lo aggiorniamo, in certi casi lo elaboriamo attraverso degli indicatori che possano semplificare magari materie complicate, complesse, e lo rilasciamo. Lo rilasciamo, quindi attraverso degli strumenti web di esplorazione del dato è possibile vedere l'informazione. Questi sono tutti strumenti gratuiti su cui non c'è pubblicità e attraverso i quali non facciamo profilazione dell'utente, quindi quando noi diciamo la cultura del dato ovviamente siamo i primi che tentiamo di essere accorti e attenti con i nostri utenti. Le piattaforme principali web che noi abbiamo realizzato negli anni sono Open Politici, l'anagrafe di tutti i politici italiani, Open Parlamento, il monitoraggio dell'attività parlamentare, Open Bilanci, che sono i bilanci di tutti i comuni italiani, e poi l'anno scorso abbiamo incominciato a sperimentare queste cose che ora vi racconterò con questo progettino a schede scoperte, ovvero abbiamo analizzato le biografie di tutti i candidati alle scorse elezioni politiche, era possibile visionare tutti i candidati alle elezioni politiche e nella scheda di ognuno di questi candidati vi erano i dati rispetto alla carriera politica, le proprietà e gli interessi in aziende, quindi quali proprietà aveva, quali incarichi avevano in aziende, questo per ricomporre il quadro dei suoi interessi sia singolarmente ma soprattutto in una logica di analisi di rete e di network. Quindi questa cosa ci permetteva di individuare dei nodi sia a livello di aziende sia a livello di persone che erano collegate fra di loro. Ora vi posso dire delle ovvietà, nel senso che se immaginiamo il gruppo Fininvest, si può ricondurre al gruppo Fininvest decine di candidati di Forza Italia che avevano relazioni col gruppo Fininvest. Ma vi erano anche tante altre situazioni totalmente sconosciute, ad esempio sono capitati in alcuni collegi, soprattutto quelli siciliani, dove magari un candidato di Forza Italia e un candidato del PD erano uno candidato in Sicilia orientale, uno in Sicilia occidentale ed erano soci della stessa società, per dire. Quindi era interessante andare a vedere questo tipo di situazioni. In alcuni contesti, sia legati a certe liste, sia a certi territori, si poteva identificare come ad esempio i candidati di Casa Pound gravitavano tutti attorno a certe aziende, per esempio. Oppure, per esempio, si poteva vedere come in Liguria, Forza Italia, vi era un nucleo importante di candidati che gravitava intorno ad aziende legate a Scaiola, per esempio. Quindi tutto ciò era molto interessante in logica di analisi di rete. Allora, queste sono le piattaforme che dicevamo. Passiamo un po' invece ai progetti speciali, su cui è lavoro OpenPolice, ce ne sono in questo momento tre, più significativi sono la mappa del potere, OPDM, OpenPolice Data Manager, è un acronimo OPDM, l'osservatorio sulla povertà educativa e l'osservatorio sul sistema di accoglienza in Italia. Per il bando Google noi abbiamo proposto un applicativo del nostro progetto OPDM. Quindi noi abbiamo partecipato proponendo un prototipo, quindi proponendo una realizzazione di un focus rispetto a questo progetto più grande. Noi con le mappe del potere fondamentalmente stiamo costruendo un'anagrafica facendo il censimento di tutte le persone che hanno incarichi rilevanti strutture pubbliche e private in Italia. Parliamo di imprese, parliamo di istituzioni, parliamo di authority, mappando tra l'altro le relazioni fra queste persone, quindi relazioni di parentela, relazioni di nomine, relazioni di finanziamento, provando quindi a creare quella che è una grande anagrafica che ci permette poi di fare sia analisi sulle singole persone, ma appunto soprattutto analisi di rete. E infatti qui il nostro ragionamento ovviamente è stato quello di partire dai dati, quindi andare a creare un'infrastruttura tecnologica che avesse come funzione principale l'aggregazione di dati da fonti differenti, la loro analisi, la loro riconciliazione per creare un'unica base dati in grado di analizzare informazioni provenienti da diverse parti, per appunto cominciare a fare analisi sia su un potere chiaramente più classico, posizionale, quindi le persone hanno un potere perché ricoprono dei ruoli, ma soprattutto relazionale sulle loro influenze. Ovviamente questo è un qualcosa che noi decliniamo in termini plurali, cioè mappe del potere, perché proprio il potere di per sé è un qualcosa che riguarda più ambiti. Molto spesso in Italia negli ultimi anni ci si è molto soffermati sul potere politico, e ovviamente questo lo facciamo anche noi con i progetti che vi ho fatto vedere prima, ma c'è sempre di più la necessità di considerare il potere dal punto di vista economico, dal punto di vista burocratico, dal punto di vista dell'informazione, dal punto di vista del coinvolgimento delle persone, dal punto di vista culturale e così via. Abbiamo quindi la possibilità di fare un'analisi delle diverse strutture coinvolte, andando ad analizzare l'evoluzione del tempo. L'evoluzione del tempo significa sia delle singole strutture, quindi come cambiano le singole strutture, sia delle persone che ricoprono incarichi nelle diverse strutture, sia ovviamente la relazione sia fra persone e strutture, sia fra strutture e strutture. Quindi tutto ciò è un qualcosa di articolato. Noi pensiamo che molte possano essere le direzioni su cui andarci a concentrare, può esserci la mappa del potere attraverso i territori, come un filtro territoriale, nazionale, regionale, locale, la mappa del potere per temi, la mappa del potere di una singola struttura, possa essere un'azienda, un partito e così via, ma poi anche fare elaborazioni che possano consentire di intrecciare più elementi fra di loro. Delle prime prove che abbiamo fatto, ad esempio, sono sia sulla distribuzione del potere, ad esempio per genere, uomini e donne, per età, per classi di interesse, ma anche la mappa dei conflitti di interesse. Devo dire che proprio questo è il focus che noi abbiamo presentato a Google. Conflitti di interesse è un grande tema del nostro Paese, è un tema che, devo dire, in evaso. Per molti anni la contrapposizione politica nella Seconda Repubblica ha fatto sì che fosse un tema anche di cui si parlava, l'ordine dei giorni, in qualche maniera, passata quella fase, è diventata una questione assolutissimamente secondaria. E invece è un qualcosa che esiste e che riguarda veramente tantissimi ambiti. Noi abbiamo fatto delle prime elaborazioni che abbiamo già pubblicato, cominciando ad analizzare due sottoinsiemi. Allora, il primo sottoinsieme era politica su politica, ovvero un politico che contemporaneamente riveste più incarichi. Questa cosa è disciplinata da diverse norme e diverse leggi che identificano situazioni di ineleggibilità e situazioni di incompatibilità. Ineleggibilità vuol dire che una persona che ricopre un incarico non può candidarsi per ricoprirne a un altro. Invece incompatibile significa che ti puoi candidare e quindi, cioè, avendo un incarico, ti puoi candidare a ricoprirne a un altro, quindi puoi essere eletto, però quando sei eletto devi fare una scelta, quindi sei incompatibile e devi optare per uno dei due. Considerate che le norme che regolano tutta questa materia sono molto articolate e anche, diciamo, in alcune parti contraddittorie, ma ve ne sono per esempio alcune molto semplici. La nostra Costituzione, per esempio, prevede che i presidenti di regione, gli assessori regionali, i consiglieri regionali non possano essere anche parlamentari. È una cosa semplice, messa in Costituzione, che è la nostra fonte primaria del diritto. Noi ci troviamo di fronte, di volta in volta, molto spesso, in casi in cui i politici fondamentalmente disattendono le leggi, fosse anche la Costituzione. Attraverso tutta una serie di escamotage riescono a procrastinare la scelta e quindi magari per anche due anni avere incarichi assolutissimamente incompatibili. E in effetti manca uno strumento capace di analizzare in maniera automatica e sistematizzata tutto ciò. Nella misura in cui noi riusciamo a ricostruire tutte queste basi dati, come un po' vi ho detto, e a queste basi dati associamo degli schemi interpretativi, degli algoritmi che impostiamo, per cui, conoscendo le leggi, diciamo, rivelami quando succede una determinata sovrapposizione, si viola la legge. Ecco che questo è un po' l'elemento innovativo. Questo lo si può fare sia politica su politica, ma è molto interessante anche politiche su aziende. Per esempio, in Italia si parla pochissimo del fenomeno delle revolving doors, ovvero del politico che senza soluzione di continuità smette di fare il politico e va a lavorare in un'azienda. Anche qui ci sono delle leggi che, per esempio, prevedono che devono passare due anni, tre anni, cinque anni. Dipende dai casi. Molto spesso questo non viene fatto. Qui, ovviamente, è quello che vi dicevo prima, relazione tra potere politico e potere economico, e così via. Noi siamo a lavoro su questo progetto. Qui sono delle milestone che noi abbiamo, a questo punto, direi quasi tutte completate. Quindi abbiamo l'aggiornamento di tutti i politici italiani, l'integrazione con i dati delle aziende e l'integrazione con tutta la parte burocratica. Stiamo lavorando anche su delle analisi che faremo dei primi rilasci. Per esempio, un tema molto interessante è quello delle fondazioni politiche, dei think tank, associazioni e fondazioni politiche, che sta diventando un meccanismo con cui il sistema politico si sta strutturando negli ultimi anni, mentre perde peso la funzione dei partiti e acquisisce invece importanza quest'altro tipo di strumento che viene utilizzato sempre di più per definire l'agenda setting, fare fundraising, fare reclutamento politico. Ecco, e quindi diventa interessante analizzare le fondazioni. Sia per questo motivo, ma anche perché nelle fondazioni politiche, molto spesso, entra in contatto la politica con settori esterni, l'impresa, la società civile, il mondo dell'accademia. E queste sono delle relazioni che poi tornano. Molto spesso, quando vediamo che il governo fa una nomina importante, si dice, beh, ma questa persona da dove esce fuori? È da dove esce fuori. Stava nel think tank del ministro che ha fatto la nomina. Quindi diventa molto importante fare questa analisi e questa ricostruzione di posizioni chiavi e di relazioni, perché effettivamente quello è il meccanismo del potere. Per esempio abbiamo fatto un articolo quando si discuteva della nomina del nuovo presidente dell'Istat, che è stato il professor Blangiardo. Il professor Blangiardo è una figura che è stata al centro di un po' di articoli anche critici per sue prese di posizione in passato rispetto a una serie di temi. Noi abbiamo affrontato la questione da quest'altro punto di vista, cioè dire Blangiardo, che ai più non diceva nulla, per quanto fosse e sia tuttora un professore stimato delle sue materie, però non era una persona nel dibattito pubblico quotidiano, ma era una persona che condivideva con il ministro Savona e il ministro Tria la presenza in tre strutture politiche, in tre fondazioni politiche vicine al centrodestra o alla Lega. Quindi ecco che la rete del potere si prende forma. Ecco chi era Blangiardo. E questo è uno schemino di come funziona. Posso aggiungere una cosa che forse ti metta taggo? Quando parliamo di reti di potere, noi abbiamo l'idea che c'è la rete del potere, oddio. Allora, le reti sono reti, tutti noi viviamo in reti, e anche gli uomini e le donne di potere vivono nelle loro reti. Non è che la rete sia di per sé una cosa negativa. Quello che gli amici di Open Police ci aiutano a fare è di vederle queste reti e quindi di interpretare ciò che fanno o non fanno le persone indicate alla luce anche di questi legami, diciamo. Certo, certo, certo. In una società trasparente non ci sarebbe bisogno. Siccome la società non è trasparente, ben vengano iniziative come quella di Open Police. Insomma, qui è uno schemino, poi forse sto rubando troppo tempo, però magari vado più veloce. Qui è uno schemino che un po' spiega come stiamo strutturando tutto questo discorso dei dati. Cioè noi abbiamo fondamentalmente le persone che interagiscono con un'organizzazione, una struttura, possono interagire con un'organizzazione perché hanno un incarico in un'organizzazione. Un politico che è consigliere comunale ha un incarico in consiglio comunale. Ma una persona può avere delle quote in un'organizzazione. Un imprenditore che è proprietario di un'impresa è una persona che ha una relazione di proprietà con un'organizzazione. Le organizzazioni lavorano in determinati ambiti tematici, le organizzazioni lavorano su dei territori, le persone per esempio nascono nei territori, le persone possono avere degli incarichi in istituzioni che fanno riferimento a un determinato territorio. Quindi questo è uno schemino di come stiamo creando, abbiamo creato la struttura tecnologica. Ad oggi di quanti dati stiamo parlando? Allora dentro il nostro sistema abbiamo più o meno, parliamo solo dell'Italia, un milione di persone, centomila organizzazioni, ottomila aree territoriali e più o meno 20 milioni di connessioni fra persone. E questo ovviamente lo stiamo facendo rispettando sia degli standard internazionali, lo standard popolo per esempio è quello della società civile e dell'Open Gov a livello internazionale in cui si strutturano persone che hanno incarichi in organizzazione. e lo stiamo facendo ovviamente lavorando a partire dalle basi dati, integrandole, quindi questo è per esempio un primo elenco di basi dati, il Ministero dell'Interno, la Camera di Commercio, Camera dei Deputati, Senatore della Repubblica, Istat, BIDAP e così via. Dico solo una cosa, queste basi dati non sono state progettate e concepite per entrare in relazione fra di loro, quindi sono fatte in modo diverso e veramente la ricchezza del nostro progetto è aver creato un'infrastruttura che permette loro di dialogare. Vi faccio un esempio di un'attività che ci vede coinvolte in più persone lavorare tutti i giorni, la gestione delle similarità, ovvero se il Ministero dell'Interno mi dice che Pinco Pallo è parlamentare e se la Camera di Commercio mi dice che Pinco Pallo sta nel CDA di un'impresa, per noi è fondamentale capire se questo Pinco Pallo sono o non sono la stessa persona ed è un qualcosa di difficile perché questi sono sistemi informativi che sono strutturati in modo diverso, quindi magari una persona ha un nome, invece la stessa persona in un altro di B ha due nomi, perché magari ha il doppio nome e non sempre è riportato. Vi sono, soprattutto sul Ministero degli Interni, frequentissimi problemi di decodifica dei caratteri. Penso ad esempio ai cognomi che terminano con una vocale accentata. Questa vocale accentata una volta è curva, una volta è acuta, una volta è un apostrofo, una volta è un punto interrogativo. E queste cose, tutti questi errori, che cosa producono? Producono il fatto che i sistemi non riconoscono che è sempre la stessa persona. Quindi si creano duplicati, si creano ridondanze, si creano errori. Quindi noi sia attraverso dei meccanismi automatici, ma devo dire in molti casi attraverso una redazione che caso per caso analizza le situazioni più difficili, andiamo a ricondurre la persona a tutti quelli che sono i suoi incarichi. Ovviamente tutto ciò ci permette anche di creare noi uno standard che per il futuro può permettere a queste basi dati di dialogare fra di loro. Questo è un po' uno degli elementi di ricchezza. Aggiungo, scusa, ma io continuo a fare questa cosa qui. Questo discorso che sta facendo in questo momento Vincenzo sembra una ovvietà, ma non lo è. Io, diciamo, di mestiere ho fatto il giornalista di passione e di formazione sono uno storico. Ho frequentato e frequento archivi, dove gli archivi sono ancora prevalentemente delle cose con i faldoni, le carte. In particolare gli archivi di polizia. le carte della direzione affari riservati del Ministero dell'Interno, eccetera, eccetera. Il problema dei fascicoli doppi o tripli per una stessa persona è mostruosa. Io sto studiando un signore si chiama Wächter, che era un austriaco, W, A con di eresi, C, H, T, E, R. Lo troviamo con Wachter, senza H, Va, Echter. E ci sono diversi fascicoli, come se fossero persone diverse. e infatti in certi momenti della storia non si sono accorti di certe cose. Un'altra persona, sempre un tedesco, si chiamava Haas, H, A, A, S, spesso nello stesso fascicolo viene indicato come H, due volte A, S. Allora, queste cose qui, che nella burocrazia sono normali, nel momento in cui Vincenzo ed altri, e tutti noi come giornalisti che, diciamo, agiamo sul digitale, vogliamo cercare di normalizzare, di capire se quella persona è la stessa persona e quindi capire se ciò che ha fatto ha relazione con ciò che ha fatto quella presunta altra persona, questo è un problema enorme. E quindi anche il discorso sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione, loro costruiscono dell'intelligenza che stanno sopra ai materiali digitali della pubblica amministrazione. Ma anche sotto ci sono dei problemi enormi. Domani pomeriggio parleremo di questa cosa in chiave giornalistica con dei non giornalisti che verranno a raccontarci come loro hanno fatto un libro che si chiama De Pistaggi che racconta una parte veramente brutta della storia del nostro paese che è quella dei grandi attentati politici, chiamiamoli così, da Piazza Fontana all'attentato alla stazione di Bologna e queste sei persone l'hanno realizzato quasi come fosse un esercizio perché loro frequentavano una scuola per diventare autori televisivi. Hanno raccolto un sacco di materiale però traendolo proprio dagli archivi cioè non hanno fatto nessun tipo di inchiesta giornalistica hanno semplicemente applicato il metodo giornalistico quello sì senza dubbio senza saperlo tra l'altro perché non giornalisti consultando gli archivi digitali e cartacei di tutti i dati prodotti di quei particolari fatti molto spesso finiti in più processi perché oramai si parla di robe minimo di 30 se non 40 anni fa e loro ci verranno raccontare come giornalisticamente senza saperlo hanno messo assieme tutti questi dati e hanno realizzato un libro che vi assicuro ci racconta un'Italia che le sentenze dei tribunali non ci hanno raccontato perdono no 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 figurati noi tutta questa attività di costruzione di banchi dati la facciamo tenendo a mente l'impostazione che vi dicevo all'inizio cioè per noi dati sono bene comune quindi questo lavoro noi lo vogliamo restituire alla comunità qui per esempio questo è un link che è già attivo in cui si può vedere tutto lo schema dei dati della nostra infrastruttura poi diciamo nella slide successiva ecco qua vi sono i protocolli tecnologici diciamo è tutto pensato per metterci in relazione sia con chi sta facendo lavori analoghi al nostro magari in altri paesi magari pensando all'ambito europeo che poi riguarda tanti paesi ma anche a chi vuole semplicemente accedervi per poter o dare un suo contributo o informarsi o comunque entrare in relazione con noi il progetto in effetti nella parte quella finanziata da da google termina proprio con il rilascio di un sito che attraverso delle api metterà a disposizione questo tipo di informazioni però voi poi considerate che una volta che abbiamo sistematizzato le informazioni garantiamo il loro aggiornamento la loro pulitura e il loro rilascio la sfida successiva sarà capire quali prodotti andremo a realizzare partendo da queste informazioni quindi saranno prodotti di informazione saranno applicativi web saranno report sarà un'impresa editoriale che analizza solo questo perché no insomma le possibilità sono sono diverse è chiaro che noi ora ci ha fatto molto piacere l'occasione di essere invitati qui pensiamo che nei prossimi mesi cercheremo di spiegare un po' in giro tutto il potenziale di questa infrastruttura che abbiamo messo su proprio cercando di capire in Italia che spunti ci sono cioè il nostro invito è quello di abbiamo messo a disposizione questi dati utilizziamoli capiamo come e cosa ci vogliamo fare per noi è fondamentale ovviamente avere in mente una missione che è quella civica quella dell'utilità comune e quindi progetto informativo progetto di consapevolezza dei cittadini progetto di trasparenza sicuramente non ci muoviamo nell'ambito di creare una banca dati e rivendila alle grandi corporation va da sé e per chi fosse interessato ovviamente se andate su openpolice.it seguite tutti i nostri aggiornamenti vi potete iscrivere alla newsletter che è anche organizzata per temi quindi se ci sono particolari temi che vi interessano potete seguire solo quelli e ci farebbe sicuramente piacere avere suggerimenti e soprattutto critiche le critiche sono la cosa migliore che possiamo ricevere grazie grazie a Vincenzo che intanto come dire ci ha raccontato il suo progetto il suo prodotto e quello che ne deriverà che è poi ancora più utile evidentemente interessante vabbè no siamo ritornati tutti i due progetti che ci hanno presentato io vado a occhio ma dovrebbero essere sul primo scaglione prototipo 50 mila euro perché da come ce l'hanno raccontati sono idee che hanno poi preso corpo quindi eravamo alla prototipazione come si dice non so credo quello di Mario difficilmente quello di Vincenzo forse potrebbe ambire poi eventualmente ad andare verso altri step ammesso e non concesso che Google faccia nuove nuove bandi eccetera perché in effetti lì c'è uno sviluppo quello di Mario più che altro dovrebbe essere uno strumento da riusare quindi non so se pensate avete pensato la risposta è che di per sé il progetto è concluso nel senso che è l'oste che parla del proprio vino quindi è un vino eccellente quello che abbiamo prodotto noi diciamo è un ha il suo pregio questo progetto nella semplicità e nell'eleganza delle soluzioni non è una cosa complicata il punto vero che il risultato se vogliamo più politico del nostro progetto è stato un risultato che nella nostra valutazione è negativo nel senso che non ci è sembrato che ci fosse nel settore dell'informazione giornalistica e non sto parlando solo dell'Italia noi ci siamo mossi a livello europeo poi ci hanno abbiamo parlato anche fuori con americani e altre cose ma insomma a livello europeo sostanzialmente il problema per il quale noi abbiamo proposto una soluzione sia di tipo teorico sia di tipo tecnico pratico sostanzialmente non è avvertito come un problema nonostante le cose appunto che Vincenzo ci raccontava e quindi c'è un ancora la sensazione che abbiamo è che ancora i giornalisti e gli editori in questo totalmente come dire consonanti in termini culturali pensano al loro lavoro e al loro prodotto come a un lavoro e un prodotto della contemporaneità cioè una cosa che certo poi avrà importanza anche per il futuro ma perché l'ho scritta oggi e perché oggi Vincenzo la legge non perché quell'informazione che io oggi do al pubblico possa costruire significati relazioni conseguenze politiche sociali economiche affettive no anche 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 nel futuro ecco e quindi un pochino il problema che tu ponevi a proposito del fatto della banca dei dati dei politici cioè se c'è una cosa che dovrebbe stare negli archivi della storia e se io mi candito magari vengo eletto consigliere comunale in un paesino di 1200 abitanti sia pur 15 anni fa questo è un fatto che meno pubblico non può essere no e poi dopo mi sono pentito poi invece non mi piace poi invece ho fatto l'imprenditorio oppure non lo so che cosa ho fatto successivamente ma che quella informazione possa o debba essere cancellata dagli strumenti con i quali noi oggi costruiamo la nostra memoria perché questo è il punto evidentemente da un punto di vista costruzionale da un punto di vista ideale da un punto di vista politico sembrerebbe un controsenso e tuttavia anche voi come ci stavi raccontando come nelle redazioni in maniera un po' sommaria si diceva beh ma questo è un povero un povero Cristo a 17 anni si è fatto una canna è finito su un giornale locale adesso c'ha 40 anni è diventato amministratore delegato di non so che ma chi se ne importa cancelliamogli la notizia che pure no 25 anni fa era perfettamente corretta giusta fino in fondo senza nessun problema allora il problema vero nostro non è di trovare finanziamenti anzi poi domani se volete ne parliamo ma in un certo senso per il progetto nostro quei soldi erano virgolette troppi abbiamo avuto il problema alla fine perché non li volevano indietro e questo è uno dei problemi con se poi se vogliamo parlare dei meccanismi qualcosa da dire ce l'ho su Google DNI c'è una una scarsa flessibilità cioè un grande come dire facilità di interfacciarsi quindi anche di far domande insomma tutta la reportistica sia da un punto di vista finanziario sia dal punto di vista dei punto dei milestone diceva Vincenzo cioè delle pietre miliari che con cui che ci si impegna a a raggiungere in certe date con certi obiettivi eccetera eccetera perché così si fanno i progetti sono nella nostra esperienza sono stati molto facili ripeto da un'idea alla alla presentazione della domanda ci abbiamo messo cinque giorni ecco e molto facili ci è sembrato un pochino più rigida la diciamo il follow up profondo del progetto per cui noi abbiamo noi abbiamo fatto domanda 50 mila perché non c'era cioè noi abbiamo detto vogliamo fare questa cosa ecco i 50 mila euro e per fare questa cosa anche perché c'è stato uno scarso interesse da parte degli editori e delle redazioni devo dire se no forse si poteva fare qualche spesa in più e noi abbiamo preparato il nostro abbiamo fatto la nostra inchiesta abbiamo fatto il nostro rapporto abbiamo fatto creato i nostri codici ma sono quattro righe di codice nel senso abbiamo definito i tag e poi abbiamo sì scritto qualche riga in più di codice per questo browser diciamo per questo ragnetto spider che se ne va in giro per leggere questi 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 OS ma abbiamo affittato un po' di spazio macchina per fare le prove per far vedere che funzionava ma a questo punto andate su un indirizzo che potete scaricarvi questo affare voi o il New York Times o l'Associazione Mondiale degli Editori o chi vuole proprio a proposito per rispondere a un'altra domanda che la collega prima faceva chiunque può diciamo se io metto nelle mie pagine quel segnale chiunque è autorizzato per definizione a a copiare quel contenuto e salvarselo su un server e metterlo a disposizione perché io gli ho implicitamente l'ho esplicitamente autorizzato con la pubblicazione di quel codice in quella pagina a fare a copiare e a rendere disponibile nelle condizioni che abbiamo definito quelle cose che lì quindi di nuovo capisco che il nostro era un progetto un pochino particolare appunto più se volete di tipo politico che non tecnologico però che poi aveva ha dei suoi riflessi anche tecnologici il problema è stato che non non è sembrato far tremare un pelo al a qualunque direttore redattore caporedattore editore anche quelli devo dire ci sono stati alcuni che ci hanno molto seguito gli amici del gruppo espresso gli amici alcuni amici del gruppo rcs altri qualcuno in francia un po' di meno ma la sostanza è che il problema che noi ponevamo non è sentito quindi forse è sbagliato abbiamo dato una risposta a un problema che non è avvertito anche se mi dicono che non so forse benvenuto l'oretto ci può raccontare credo che la settimana scorso questa settimana ci sia stata una riunione in fieg proprio per cominciare finalmente a parlare di come se e come quanto si possa o si debba cancellare i contenuti i contenuti giornalistici su richieste eccetera ma è una se c'è stata questa riunione di cui avevo sentito è una rara avis è la prima volta che succede bene io intanto darei la parola a Saverio Zeni che è qui accanto a me e che è qui in questo panel poi nel prossimo sarà con altre vesti ma in questo panel è qui come vicepresidente di Anso che è l'associazione nazionale della stampa online e che quindi ha la stessa stregua di altre associazioni editoriali ma molto più interessata evidentemente essendo specificamente sull'online a questi progetti teoricamente dovrebbe essere molto appunto interessata e molto dentro però io nei nostri articoli che abbiamo scritto di roba di editori del Lanso che hanno avuto accesso a questi progetti non ne ho vista buonasera sono appunto Saverio Zeni rappresento l'associazione nazionale stampa online beh sì allora ci sono stati alcuni soci che hanno partecipato però diciamo così che il sentimento comune insomma che è circolato in associazione non è più o meno stato dello stesso avviso della semplicità che invece ha dimostrato Todeschi Nilalli probabilmente forse perché abbiamo non so questi nostri soci editori probabilmente non hanno capito bene probabilmente il bando non sono riusciti diciamo a presentare delle proposte che poi siano state che poi sono state selezionate anzi che non sono state selezionate ora diciamo allora innanzitutto se mi permetti faccio un piccolo anch'io porto un piccolo contributo tanto per iniziare appunto a me interessa molto il progetto della mappa del potere anzi se poi dopo ci fermiamo un attimino volendo visto che è patrimonio questo dato patrimonio condiviso credo che ci possa veramente molto interessare Anso rappresenta circa un centinaio di editori sono 150 testate giornalistiche è l'informazione locale iperlocale e probabilmente siamo forse tra appunto tutti i nostri associati quelli che vivono proprio sul territorio L'Anso faccio molto breve insomma rappresenta editori che operano su provincia appunto su interi territori tipo da le grandi città fino ai piccoli comuni io per esempio sono editore di un giornale della provincia di Firenze che opera su nove comuni quindi potete capire che le nostre notizie sono proprio notizie provenienti dal territorio quindi quando si parla di informazione locale francamente appunto io sono andato a interessarmi un po' di questa iniziativa di Google perché attirato dalla parola chiave informazione locale è roba per me insomma e troviamo poi invece grandi gruppi nell'informazione locale insomma a volte ci lascia un po' perplesso insomma questo fatto come del resto parlando di questo progetto di Google allora chiaramente chiunque abbia interesse in maniera anche trasparente secondo dell'esperienza appunto di chi ha parlato prima è un bene in questo caso che una realtà come Google e speriamo venga imitata anche da tantissime altre che mette a disposizione queste queste risorse per produrre progetti di cui non ha nessun interesse a voler poi metterci il cappello sopra per cui effettivamente si può dire che è un ritorno di quello che tutti noi gli diamo gli diamo tutti i giorni per cui questo è ben insomma è una cosa molto positiva dall'altro però ogni tanto ci farebbe piacere anche conoscere le modalità di selezione chi sono questi selezionatori così tanto per curiosità insomma perché se da una parte i soci della nostra associazione insomma di Anso probabilmente hanno un po' dormito forse grazie a questa iniziativa digit a quanto si sente parlare si riesce forse a spingere un po' di più e aumentare l'interesse a far sì che si possa realizzare progetti che vadano a beneficio comunque di tutta la comunità io da parte mia un po' di idee per quanto riguarda la partecipazione a questi bandi sostanzialmente l'ho avute ma l'ho avute diciamo sono forse se vogliamo qualcuno sono anche banali ma sono sostanzialmente le esigenze che tendono a cercare di innovare proprio quello che è questo patrimonio io anche in altre occasioni ho avuto modo di rappresentare di associare che l'evoluzione dei giornali online che stiamo vivendo adesso sono circa da un calcolo così esiste adesso un osservatorio ma ancora i dati non sono molto precisi ci sono circa 800 testate online io parlo solo di quelle registrate che hanno un direttore che sono iscritte al ROC quindi c'è una miriade di testate locali di cui queste testate spesso sono composte da una stessa persona che è il giornalista e fa il direttore e fa l'editore quindi un ettrino come si suol dire e soffrono quasi tutte delle stesse problematiche innanzitutto dall'impianto tecnologico forse questo giornalista editore e direttore è molto bravo a rapportarsi col territorio molto bravo forse a fare appunto il giornalista ma un pessimo social manager un pessimo tecnico e si affida non so ad altervista piuttosto che ai siti gratuiti piuttosto che a mille altre cose quindi effettivamente ora nella prossima giornata di direttivo prendo l'occasione appunto di portare questa questa esperienza di oggi perché effettivamente open police lo conoscevo ma mi ha permesso diciamo di approfondire questa conoscenza e stimolare appunto i nostri associati affinché possano diciamo anche unirsi insieme per presentare dei progetti comuni quindi per quanto riguarda proprio le tematiche del mondo del giornalismo noi effettivamente soffriamo prima da noi è una testata appunto che ha rammentato tedeschi Milalli era credo una testata associata a Anso ora se non ricordo bene e quindi è sì sì è stata associata a Anso e devo dire che è stata veramente un'esperienza negativa per quanto riguarda prima da noi ricordo che il precedente presidente di Anso Betto Liberati insomma si è molto speso anche per per questa per questa testata perché è un caso appunto che poi cioè questa sentenza diventa caso e poi scaturisce cioè scatena tutte delle tempeste anche a livello locale piuttosto importante guardi vi cito proprio un esempio di questa mattina per dire come spesso fosse un certo livello di educazione o di conoscenza di certe dinamiche sarebbe bene che fosse diciamo proprio patrimonio comune alle 7 e mezzo io lavoro generalmente fino alle 3 di notte lo dico perché normalmente fino alle 10 cerco di tenere il telefono acceso ma distante dal mio comodino alle 7 e mezzo mi chiamo una signora arrabbiatissima perché abbiamo rilanciato un diciamo un'evoluzione cioè un ulteriore articolo su una tragedia appunto di cronaca nera successa in Mugello arrabbiatissima perché avevamo messo una foto dove c'era un soggetto che era della scientifica di spalle la foto buia dove questa persona della scientifica era davanti in una strada pubblica davanti a un cancellino si vedeva una porta con una tenda ebbene questa era la proprietaria di quell'appartamento che è arrabbiatissima che dice che abbiamo violato la loro privacy e mi manderà una querela da parte del proprio avvocato cioè quindi questo è l'esempio lampante ora a me ha disturbato di più il fatto che mi abbia telefonato alle 7 e 30 che il resto però comunque con la mia diplomazia gli ho detto dove avviarsi comunque ora dipende se questa signora per esempio se ha i soldi da voler buttare via ci chiama l'avvocato e questo ci fa casino una realtà come la nostra dove noi non abbiamo purtroppo una piccola realtà i 100 euro per noi fanno la differenza ma se io devo star dietro a cause di querele temerare e quant'altro è un grosso problema no? pertanto e questo chiaramente poi va a inficiare anche un po' la nostra libertà di espressione o quantomeno seguire dei casi piuttosto che altri quindi pertanto ecco torno diciamo portando questi esempi che qui semplicemente a dire che iniziative con queste sono veramente molto importanti possibilmente rendendoli ancora più trasparenti ai limite qualora ci fosse qualcosa di non trasparente e fare in maniera tale che vi possano accedere non soltanto i grossi gruppi ma anche i piccoli editori dopodiché poi se vogliamo approfondire qualche altro tema grazie intanto a Saverio a proposito di Corriere Temerario domani pomeriggio ci saranno i colleghi di Ossigeno per l'informazione che forse qualcuno di voi conosce che è un osservatorio appunto realizzato dalla Federazione Nazionale della Stampa e dall'Ordine dei giornalisti che segue proprio queste tematiche che segue le tematiche dei giornalisti minacciati quindi parleremo anche nello specifico proprio di questi argomenti ora Saverio l'ha citato così in modo trasversale per un episodio che è capitato proprio a lui ma insomma ci sono cose effettivamente ben gravi che riguardano proprio le guerre temerarie allora abbiamo con noi Lazzaro che si è perso un po' di cose ma insomma ti riassumo brevemente insomma abbiamo spiegato in che cosa in che cosa consistono o almeno hanno consistito perché oramai sono scaduti Google DNI quanti soldi sono stati stanziati quanti progetti hanno ricevuto questi soldi e dove ci siamo soffermati un attimo sull'Italia parlando appunto del fatto che solo 8 dei 150 milioni messi a disposizione da Google Europa è finito nel nostro paese e soltanto 39 progetti dei 500 e passa che sono stati finanziati dal fundo di Google sono italiani abbiamo poi parlato con Vincenzo Smaldore e con Mario Teleschila dei loro specifici progetti tra l'altro del progetto di Mario va detto anche che non è nei 39 progetti italiani perché loro l'hanno presentato esatto io sono tedesco ecco perché mi chiami tedeschini perché ha fisicamente firmato la domanda Nicolà che è francese ma risiede a Berlino e quindi il mio è un progetto tedesco quindi non è non è uno dei progetti italiani quello di Mario è quello invece appunto di Open Police e si rientra nei 39 progetti premiati da Google e finanziati da Google ecco io a Lazzaro farei appunto la domanda delle domande nel senso che il problema è come mai perché poi noi appunto abbiamo come LSD seguito la dinamica provato a scrivere degli articoli provato a capire quali di questi progetti avrebbero avuto una parliamo solo di quelli italiani avrebbero avuto una ricaduta effettiva sul mondo del giornalismo perché insomma i Google DNA nascono perché dovrebbero portare innovazione nel giornalismo ecco noi ci siamo posti la domanda ma questi progetti in particolare quelli italiani visto che siamo italiani l'hanno portata cioè stanno producendo qualcosa certamente il progetto di Open Police qualche cosa porterebbe effettivamente no però innanzitutto è ancora da realizzare e dopo di che l'ha detto benissimo Vincenzo poi vediamo quali sono le implicazioni pratiche noi lo facciamo e siamo molto contenti ci piacerebbe capire poi come questa cosa si può sviluppare io vi assicuro da giornalista i 39 progetti me li sono studiati tutti e ce ne sono davvero pochi che abbiano le stesse finalità e se volete poi ve li dico anche me li sono segnati e ho preparato delle slide intanto vorrei imparere di Lanzaro un domandone non la domanda delle domande allora io mentre tu parlavi cercavo nel mio basic English la definizione di accountability che in pratica è una cosa un po' simile all'operazione che facciamo noi sta tra verifica e credibilità cioè tu presenti tu Google presenti un progetto noi presentiamo un progetto a Google Google lo finanzia e poi dobbiamo verificare che cosa hai fatto di questo progetto che cosa ha prodotto questo progetto in termini di innovazione e poi dal mio angolo visuale sarebbe anche importante valutare se questi progetti hanno prodotto qualcosa di occupazione e l'angolo visuale sempre di qualcuno che fa il sindacato che gestisce l'associazione stampa romana che è la seconda associazione sindacale di categoria del nostro paese io quello che vorrei capire è proprio l'esito di questi progetti cioè la filiera va bene all'inizio vanno bene i 39 progetti vanno bene i progetti anche a livello internazionale poi però e questo poi però mi fa avere qualche dubbio sul senso un po' complessivo di questo progetto nel senso che io tra l'altro parla uno che ha partecipato a questi progetti noi di stampa romana da tempo ci stiamo un po' caratterizzando per essere un po' eretici all'interno della compagine sindacale e all'interno di queste eresie c'è stata anche la presentazione e la partecipazione in due circostanze con un nostro progetto al DNA e noi abbiamo superato diciamo il primo test per poi fare questo colloquio con Parigi in cui una nostra collega che lavora a stampa romana raccontava questo progetto a chi poi doveva in pratica selezionare scegliere e decidere ok lo finanzi questo progetto era un progetto che poi abbiamo visto finanziato in altre forme sotto altri cappelli con altre vesti ed era un progetto relativo alla tracciabilità delle notizie alla possibilità che queste notizie in qualche modo fossero in tempo reale rivendute da parte dei freelance quindi andava anche a individuare una necessità forte che è quella della retribuzione di chi lavora sul campo e non ha un contratto di lavoro giornalistico attraverso uno strumento che fosse uno strumento digitale di raccolta delle notizie e poi di distribuzione delle notizie non ci sembrava una cosa sbagliata siamo stati bocciati nel primo giro e siamo stati bocciati nel terzo giro noi a un certo punto gli abbiamo chiesto ma guarda signori XY ma non è che per caso il fatto di essere un sindacato fa sì che tu sia ostile no assolutamente noi sindacati li apprezziamo li amiamo eccetera 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 li amiamo non siamo mai stati finanziati certamente è colpa nostra evidentemente il nostro progetto aveva delle fale dei buchi però io penso anche che diciamo quello che ha impostato Google dalla potenza di uno dei più grandi monopoli moderni e sono sostanzialmente mance è la ricezione di mance è la ricezione di mance sapendo che loro sono i più grandi predatori del nostro settore e in questo noi dobbiamo essere chiari che non significa che poi a questo punto purtroppo distruggo il cellulare e non mi servo più del motore di ricerca di Google ma diciamo essere giusti nella cornice nella quale ci troviamo nella definizione e nella narrazione noi c'è stato una settimana fa il congresso di stampa romana io avevo la mia relazione un mio collega sindacalista mi fa mai visto l'indicizzazione di Google al primo posto mentre stavo entrando sul palco per dire al primo posto c'era la prima notizia del motore di ricerca di Google dell'indicizzazione di Google News era un grosso topo che si era incastrato in un tombino in Germania ed era stato rilanciato dall'ANSA ed era la prima notizia allora quando diciamo e tu e voglia dire sì la qualità dell'informazione e il Mugello e la foto e l'invasione della privacy quando la prima notizia era il topo che era rimasto incastrato nel tombino ma perché questo perché evidentemente nel momento in cui Google News gli dà il topo pensa che sul topo vanno a finire migliaia centinaia di migliaia milioni di persone che cliccano e quindi generano traffico e producono diciamo valore aggiunto rispetto a quella che per loro è una notizia tale da aprirci rispetto alle prime quattro che leggevo sul mio cellulare le notizie allora noi abbiamo dei problemi con Google con Facebook i problemi sono intanto la scelta di che cosa fanno di che cosa vanno ad indicizzare perché scelgono il topo piuttosto che un castoro piuttosto che un incidente stradale piuttosto che Salvini e Di Maio e poi ce n'abbiamo un altro di problemi che cosa tu ritorni a un settore che usi che anche attraverso l'interazione corretta di noi utenti per produrre traffico per produrre dati per prendere i nostri dati e per farci soldi allora se tu mi utilizzi come strumento uno strumento importantissimo per farci soldi io non mi posso accontentare dalla mancia del DNA perché quella mancia mi stai dicendo che tu hai una certa coda di paglia questa coda di paglia la utilizzi giustamente per far crescere un po' di iniziative digitali di cui abbiamo bisogno come il pane poi Marco ti darò anche qualche notizia su questo perché poi diciamo il mondo è bello perché ha variato dicevo mio amico e bisogna tu mi le dire queste notizie perché abbiamo tre minuti sì allora cerco di stringere allora diciamo noi dobbiamo sul DNA a contability cioè mi devi far capire dove vanno questi soldi e che cosa realizzi perché altrimenti appunto secondo me andiamo più sul livello delle mance che sul livello poi della produzione reale abbiamo bisogno però come il pane in questo Google da padrino vede una cosa assolutamente giusta di spostare il nostro livello della produzione sul digitale che è un po' l'impegno di tutti quanti incluso anche come parte sociale il sindacato dall'altro lato questa settimana viene anche la settimana dell'apertura delle pubbliche amministrazioni il Dipartimento per l'editoria proprio in questa settimana sta facendo una serie di incontri della mattina prendo le porte su diversi temi e non c'è nessun sindacalista tra i relatori questo dimostra una certa difficoltà di interlocuzione nei confronti della Presidenza del Consiglio ci sono invece editori ci sono editori digitali ci sono rappresentanze dell'USPI eccetera in uno di questi passaggi hanno detto che uno dei problemi che loro avranno è fa sì che nel momento in cui individuano start up digitali da finanziare che non sono molto diverse dai progetti cioè se il progetto è una start up quello è il progetto editoriale avranno difficoltà perché non vogliono sprecare soldi perché loro pensano questo è il Dipartimento pensano che quella possa essere un buco nel quale diciamo dare soldi drenare soldi senza poi verificare l'efficacia del prodotto quindi noi abbiamo un problema in generale dell'efficacia del prodotto digitale di sostenibilità del prodotto editoriale nel senso che io immagino la difficoltà di chi deve gestire dieci paesini toscani che magari se la suona e se la canta per conto suo deve fare pure il social media manager quindi abbiamo un livello di struttura dell'azienda nel senso che diciamo è meglio lavorare in tre in quattro piuttosto che in due in uno una banalità assoluta che però rende anche sostenibile il prodotto e che però se puoi lavorare in tre in quattro è perché fatturi 150 mila euro non è fatturi 25 allora diciamo abbiamo un problema di dimensione di impresa di capacità di questa dimensione di impresa di crescere per cui giustamente tutti i meccanismi lo ha fatto stampa romana vanno bene presidenza del consiglio google facebook chiunque ti finanzi va bene perché riesci a reggere da un punto di vista del peso però sappiamo che dall'altro lato dobbiamo pagare dei prezzi allora il prezzo è il monopolio il prezzo è la dipendenza dal pubblico il prezzo è diciamo un pezzettino di tua libertà che in qualche modo devi destinare ad altre persone che ti possono aprire e chiudere il rubinetto e decidono a un certo punto che magari il progetto è ottimo però se tu metti la foto del castoro incastrato nel tombino è meglio ecco pensiamo poi al fatto Lazzaro ha detto bene io provo a sottolinearlo non siamo il castoro nel tombino quando noi adesso pensiamo di pubblicare una notizia in rete ci occupiamo ci preoccupiamo della SEO non è il contrario cioè l'aspetto fondamentale e naturalmente molto pesante per il giornalismo perché da una parte non la sappiamo fare la SEO e quindi dobbiamo diventare esperti e dall'altra la SEO non significa dare la notizia più rilevante naturalmente ma significa secondare dei criteri che il motore di ricerca pretende perché poi questa notizia vada a finire rubricata in alto nel listato famoso che denota il successo o meno della notizia quindi il problema è evidentemente di una contorsione terrificante e però ci preoccupiamo di questo noi giornalisti ci preoccupiamo di fare formazione ci preoccupiamo di capire come funziona e quindi ci stiamo assoggettando a un mondo che però rifiuta in tutti i modi di essere editore o almeno lo dice apparentemente insomma voglio dire ora non sto ad aprire un altro dibattito su un tema che non c'entra niente o comunque che sfiora appena quello di cui stavamo parlando però è evidente che a questo tavolo c'era un convitato di pietra che era quello poi più importante insomma cioè gli stessi di Google che evidentemente avrebbero dovuto spiegarci un po' di cose e che invece vanno sempre soltanto nei panel in cui possono fare soltanto possono spiegare soltanto chi sono e raccontare quanto sono belli io li avevo invitati esclusivamente perché volevo che ci fosse un contraddittorio a questo tavolo non c'era un imputato naturalmente c'era semplicemente una serie una serie di persone che avrebbero potuto raccontare la loro esperienza rispetto a questo tipo di progetto evidentemente e quindi insomma chi meglio di chi ha lanciato il progetto non ce l'avrebbe potuto spiegare non ci sono non ci sono stati non so se qualcun altro dei relatori vuole aggiungere qualcosa io tendenzialmente chiuderei insomma siete tranquilli tutto a posto ok se ci sono domande naturalmente facciamo sempre a tempo a raccogliere ci sarebbe una domanda e andiamo allora a sentire in favore di camera mi fermo qua no visto che poi ha citato la SEO volevo solo aggiungere una cosa visto che poi io la faccio e siamo una società che fa attività per una testata giornalistica molto importante in Italia volevo dire una cosa che la notizia del topo non credo che sia colpa solo di Google se Google la porta in alto è colpa della testata giornalistica che ha parlato di un topo e che noi per primi creiamo tanta diffusione e tanti click Google fa il suo lavoro e dice io per indicizzare ecco c'è la SEO ma c'è anche l'utente interessato a queste notizie poi sappiamo che l'indicizzazione è anche molto soggettiva da dove ci troviamo quindi non è una cosa così voglio dire scontata il fatto di dire ho trovato la prima notizia e quindi vuol dire che Google dà attenzione al topo non dà attenzione a altre cose un'altra cosa riguardo l'occupazione che si crea di fronte a questi interessanti progetti dico anche che Google ma non per difendere assolutamente è una società cioè non ci vedo non ha un ruolo che poi promette insomma occupazioni o risvolti naturalmente io spero che lo faccia perché tutti lo speriamo però c'è anche da valutare questa cosa qui nel senso che mi pare che è già tanto che mette a disposizione fior fior di soldi ripeto per iniziative interessanti tutto qua grazie naturalmente la mia nota a margine della questione della SEO era semplicemente per capirsi il modo di fare i giornali prima di tutto questo era molto diverso quindi ci sono dei criteri di cui dobbiamo tenere conto poi il come succedono queste cose è un altro di questi criteri di chiudere conto di chiudere conto di chiudere conto Grazie a tutti.